Questa notte si è consumata una tragedia nell'Interland di Campobasso, zona limiti di Contrada Calcare. Un incendio causato la morte di un bambino di 9 anni a causa delle esalazioni. Alessandro Mignogna è il suo nome. L'incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte, probabilmente a causa di un cortocircuito che avrebbe appiccato il fuoco prima di un divano e da lì a poco ad altre parti della casa. Il padre del bimbo, originario di Riccia, è stato il primo ad accorgersi di quello che stava accadendo. Ha chiamato i vigili del fuoco, che sono stati i primi ad accorrere sul posto. Di lì a poco anche il personale del 118, che ha cercato subito di rianimare il bambino. Il personale del 118 ha praticato il massaggio cardiaco ripetutamente, ma senza successo. Il bambino aveva cessato di vivere. Per gli altri componenti della famiglia, il ricovero in ospedale, il fratellino di 12 anni successivamente trasferito all'ospedale Santo Bono di Napoli, la sorellina di 4 anni di messa poi mattinata e la mamma. Ovviamente sotto sciocchi il padre. Evidenti i segni dell'incendio al secondo piano della casa. Dal balcone si intravede il letto e gli illuminari di Natalia Nerite. Nella casa abitano oltre i nonni altre due famiglie, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. In totale nella palazzina c'erano cinque bambini coinvolti nell'incendio i tre bambini abitanti al secondo piano. Sul posto la squadra mobile su incarico della procura di Campobasso. Il sostituto procuratore Anna Rita Carollo si è recata sul luogo dell'incendio. Il corpo specifico dei vigili del fuoco, il MIAT, sta svolgendo le indagini. Al momento solo supposizioni. Una ciabatta difettosa posta sul divano o una candela, ne sapremo di più al termine delle indagini. Il corpo del bimbo è all'obitorio dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.